A Cosenza sono stati assolti per non aver commesso il fatto i medici dell'annunziata coinvolti in un presunto caso di malasanità. I medici assolti dal GUP Gisi Ferrucci sono l'infettivologo Roberto Pellegrino, il gastroenterologo Massimino Senatore, tre medici del reparto malattie infettive Albano Terremoto, Salvatore De Santis e Giovanni Apuzzo, giudicati con il rito abbreviato per le accuse rivoltegli dai familiari di un 64enne deceduto nell'ospedale di Cosenza. mentre l'anestetista Maria Vigna è stata rinviata a giudizio. L'imprenditore deceduto avrebbe contratto la malaria dopo un viaggio in Gabon, perdendo la vita dopo quattro giorni di agonia all'annunziata. Secondo quanto riferito dalla figlia, i sanitari avrebbero escluso l'80% che si trattasse di malaria, nonostante fosse di continuo ripetuto dai familiari che l'uomo era appena rientrato da una regione in cui la patologia è estremamente diffusa. ricoverato dopo essere arrivato in pronto soccorso a febbricitante, le sue condizioni sarebbero peggiorate di ora in ora sino a portarlo alla morte.